La decisione del Governo di rivedere gli interventi del Superbonus, eliminando tutti i benefici anche nelle aree del sisma 2009-2016, ha creato grande allarme e preoccupazione. Il Presidente Anci Abruzzo e coordinatore delle quattro Anci regionali di Lazio, Abruzzo, Marche d'Umbria del Cratere, Gian Guido d'Alberto, ha sottolineato che il provvedimento rischia di avere effetti pesantissimi sulla ricostruzione e chiede con forza al Governo di tornare immediatamente sui propri passi. In caso contrario, i sindaci dei comuni interessati sono pronti alla mobilitazione. Ed anche il Partito Democratico si dice pronto a scendere in piazza con ruspe e trattori. Una mannaia che colpisce oltre 20.000 progetti, un Governo cinico e un provvedimento vigliacco, perché giunge subito dopo le elezioni regionali che si sono tenute circa 15 giorni fa e che mette in crisi un'intera economia. Chiediamo ovviamente al Governo regionale di mobilitarsi, a quello nazionale di recepire le nostre richieste. Il PD è pronto alla mobilitazione, soprattutto per salvaguardare un'intera comunità, un pezzo di questa regione molto molto importante, le tantissime imprese e migliaia e migliaia di persone. Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio dal Canto Suor, rassicura tutti affermando che ci sono ancora i margini per tutelare la ricostruzione del cratere. Stiamo lavorando sul testo del decreto, ha sottolineato, in maniera tale da inserire tutte le garanzie e le tutele per la ricostruzione. Ci sono i margini per poter intervenire sul decreto tagliasprechi? Assolutamente sì, sono in costante contatto con Palazzo Ghigi e con il Ministero dell'Economia, insieme al Commissario Castelli. Comprendiamo le ragioni che portano il Ministro Giorgetti ad aver chiesto al Consiglio dei Ministri un intervento drastico, perché Eurostat sta certificando una totale mancanza di controllo della spesa relativa al superbonus. C'è però una disciplina speciale che riguarda il Sismar, sulla quale, come stiamo dimostrando agli uffici con le carte, con la documentazione in nostro possesso, non si fa alcun risparmio e non si deve fare alcun risparmio, perché la ricostruzione è un elemento che deve essere assolutamente garantito e sarà garantito. Quindi stiamo, come dire, cesellando il testo del decreto in maniera tale che conterrà le dovute garanzie e tutele verso il percorso della ricostruzione, pur nel quadro di una esigenza di finanza pubblica che deve portare all'esaurimento e alla chiusura di uno strumento che si è dimostrato purtroppo un tumore, una metastasi all'interno dei conti pubblici che rischia di portare l'Italia fuori dal controllo delle casse dello Stato e questo non ce lo possiamo permettere.